Una mattinata ad altissima tensione a Maddalusa, dove le ruspe sono tornate in azione per seguire il cronoprogramma di demolizioni stabilito da procure e comune di Agrigento. Nel centro del Mirino una villetta abitata per tutto il periodo dell'anno dalla famiglia Piraneo, composta da 5 persone. Una costruzione realizzata in piena zona A, quella che nel 1968 il decreto Guimancini indicò ad inedificabilità assoluta. Ad innescare la miccia Giuseppe Arnone, ex di Lega Ambiente, uno dei volti storici della lotta contro gli abusi edilizi nella Valle dei Templi. E oggi sceriffo di Agrigento. Si è seduto davanti al cancello della villetta tentando di bloccare le ruspe all'ingresso, sostenendo l'illegittimità del provvedimento. Io sono per tutelare prioritariamente la Valle dei Templi, ma ancora prima della Valle dei Templi viene la legalità e lo stato di diritto. Qui si stanno commettendo reati e abusi in danno alla famiglia Piraneo e alla città di Agrigento. Poiché non parlo a vanvera, questi reati li ho già denunziati questa mattina con la posta certificata all'autorità giudiziaria, diffidando sia il Comune che la Procura a continuare nelle condotte contrarie alle norme di legge. La contrarietà alle norme di legge è così grave e palese che non hanno voluto verbalizzare niente e non hanno neanche voluto acquisire questo provvedimento del giudice della esecuzione che riguarda questa casa che stanno pure violando e disattendendo. Le leggi dello Stato italiano vanno rispettate, le demolizioni si fanno non a piacimento demolisco la casa che preferisco demolire perché quello è antipatico, la casa non mi piace. Si fanno con criteri oggettivi, si fanno partendo o dalla cronologia, cioè l'abuso più antico che aveva la prima ordinanza di demolizione e non è questo, oppure prendendo atto del danno che regano al paesaggio. Quello che vediamo è un gravissimo abuso di lizio, il più grave che c'è nella Valle dei Tempri. Questa è una colonna del Tempio di Giunone, i turisti vedono queste porcherie. Perché non siamo partiti da qui a fare le demolizioni e partiamo invece da una villetta dove abita una famiglia? Voglio chiarire che la gravità dei fatti di cui mi sto occupando mi ha spinto a chiedere a Piranio, al mio cliente, la cortesia di lasciare fare a me tutto, di non essere qua questa mattina, di non vivere questi momenti di tensione. Per cui Piranio non è qui. Gli operai della ditta palmese vincitrice della gara d'appalto hanno sfondato il cancello e la porta della villetta per procedere allo sgombero dei mobili e di tutte le suppellettili. Sul posto, qui davanti la casa della famiglia Piranio, anche molti abitanti della zona sono venuti in segno di solidarietà. Lei è uno di questi? Io sono uno di questi e con l'occasione vorrei fare un appello con la vostra emittente che intervenga il ministro dei beni culturali a livello nazionale e intervenga anche l'assessore dei beni culturali regionali per poter dimostrare loro che queste case con la valle dei tempi non hanno niente a che vedere. E in più volevo fare un appello al ministro Alfano, nostro concittadino, che lui questa cosa l'ha sempre seguita da quando era consigliere comunale. Qua si sta demolendo Agrigento e lui non ci fa vedere. Agrigento ha bisogno che lui venga fuori e venga a dire qualcosa per questa gente. Degli otto manufatti abusivi da abbattere realizzati in zona A del parco archeologico fino a ora sono stati demoliti coattivamente un ovile e un muretto di cinta in contrada Poggio Muscello. Autonomamente da parte dei proprietari sono stati irrasse al suolo un edificio di circa 60 metri quadrati in via degli Imperatori, un edificio che ospitava la cucina di un ristorante sulla collina tra via Cavalieri Magazzini e Poggio Muscello e un magazzino di contrada Cugno Vela. Il 10 settembre le ruspe si sposteranno in via Frodite, una traversa del viale Emporium a San Leone ed abbatteranno le ultime due costruzioni abusive.